La linea Averaudi Econoitra è sicuramente una linea che ha suscitato tantissimi interessi ed ha avuto una risposta veramente molto buona da parte della community e oggi guardiamo insieme due versioni speciali, due versioni completamente diverse, due prodotti che inizialmente mi spaventavano ma che poi una volta provati e messi al polso sono riusciti in qualche modo a piacermi e a convincermi su una loro particolarità che sicuramente avrete letto dal titolo ma che appunto scopriremo passo dopo passo durante questo video. Salve ragazzi e benvenuti in questo nuovo video, io sono Pasquale, questo è PSQ Watches e come sempre ci tengo a ringraziare tutti quanti per il continuo supporto che è dato al canale insieme stiamo crescendo passo dopo passo e riesco a portare sempre più contenuti interessanti seguitemi anche su Perpetual Passion perché pubblico articoli, facciamo webinar, insomma produciamo tantissime cose interessanti anche lì quindi se vi va di seguirci seguiteci anche su Perpetual Passion e oggi parliamo di Econoitra un brand italiano che produce in Svizzera con la S maiuscola potremmo dire perché Econoitra secondo me è sinonimo di grandissima qualità e potremmo dire che è uno dei pochi brand che riesce realmente a produrre uno Swiss made di livello nel senso che molto spesso i brand dicono Swiss made o comunque dicono di produrre con standard appunto da Swiss made ma come sappiamo non tutti realmente mantengono quello che è uno standard appunto Swiss della Svizzera mentre Econoitra secondo me riesce veramente bene a fare questa tipologia di prodotti e offrire appunto tantissima qualità quindi Econoitra secondo me è un brand che riesce proprio in questo dal punto di vista del contenuto tecnico costruttivo è veramente veramente validissimo in più secondo il mio modesto parere Econoitra è una realtà che riesce nei suoi orologi a trasmettere molto bene il suo messaggio il suo legame con la natura, con le montagne e in questo caso con la linea Averau che fa appunto riferimento a Navetta delle Dolomiti riesce molto bene a trasmettere quel messaggio appunto di Field Watch quindi di quell'orologio da campo di battaglia, di quell'orologio tuttofare quell'orologio che ti porti sempre con te Non appena ho visto questi Averau in PV di nero ho pensato inevitabilmente a AWC quello che secondo me è il marchio principe quando si parla di Pilot Watch di Field Watch è il brand top dove secondo me ritroviamo non solo tanta storia ma ritroviamo anche delle specifiche estetiche e costruttive veramente bellissime e veramente interessanti e quindi secondo me quando si parla di Field Watch un po' tutti i brand fanno riferimento ai AWC in termini di prezzo questi Econoitra però riescono a competere secondo me maggiormente con quello che è l'Hamilton Kaki quindi secondo me Econoitra è riuscita tranquillamente ad offrire un prodotto che può essere una valida alternativa a quello che è il Kaki Field classico di Hamilton che è praticamente il best buy del brand appunto dello Swatch Group e qui oggi appunto parliamo di due modelli in PV di nero una lavorazione di cassa che sapete non è una cosa che io prediligo più di tanto ma devo dire che i Field Watch sono l'unica categoria che io vedo molto bene in PV di nero o comunque sia come fa i AWC in ceramica nera perché secondo me si riesce tranquillamente a rendere un orologio ancora più sportivo ancora più stealth, ancora più intrigante e quindi questa categoria di orologi la vedo molto molto bene con il trattamento appunto in PV di nero con una cassa appunto in colorazione nera la costruzione della cassa come vi ho già detto è davvero elevatissima e Econoitra secondo me anche qui nonostante abbiamo un trattamento in PV di nero è riuscita a fare un lavoro molto molto valido infatti abbiamo una costruzione veramente interessante una cassa ben realizzata bilanciata dal punto di vista delle specifiche dimensionali e quindi nel complesso anche da questo punto di vista Econoitra è riuscito a mantenere molto alto il suo standard qualitativo oggi in video vediamo due modelli secondo me molto interessanti abbiamo i piccoli secondi carica manuale e abbiamo i fasi lunari invece automatico partiamo dai piccoli secondi che secondo me è quello che innanzitutto mi ha colpito di più ed è quello che sceglierei per due piccoli fattori il primo la pulizia del quadrante e in più il fatto che è leggermente più sottile rispetto all'automatico infatti abbiamo 12,5 mm contro i 13,5 mm del fasi lunari automatico e il solo tempo classico quindi il meccanico carica manuale in più avendo solo la carica manuale riesce a trasmettermi ancora di più quella sensazione di field watch di orologio appunto da campo di battaglia quell'orologio che veramente si unisce molto bene con il proprietario infatti a me piacciono davvero tanto i carica manuale proprio per questo perché da una parte riusciamo a guadagnare sia in termini di vestibilità perché molto spesso sono più sottili rispetto ai fratelli automatici in più appunto la sensazione, l'abitudine di caricare l'orologio è sempre un piacere per chi è appassionato di orologi mi è piaciuto tantissimo la sua pulizia di quadrante questo quadrante tutto nero, molto semplice, molto pulito riesce a trasmettere un'ottima leggibilità infatti abbiamo delle sfere che sono in contrasto bianche con una buona pasta luminescente sul quadrante che permettono quindi una visibilità veramente ottima una caratteristica fondamentale nei field watch e il fatto che sia in pv di nero riesce a renderlo ancora più sportivo più intrigante, ancora più particolare quindi questo piccoli secondi mi è piaciuto tanto per questo perché è veramente versatile, è comodo si veste molto bene è veramente bilanciato come orologio mi è piaciuto davvero davvero tantissimo passiamo ora invece a quello che secondo me è la versione un po' più intrigante un po' più particolare per quella che è la costruzione per quella che è la meccanica dell'orologio in sé infatti Econoitra è riuscita benissimo a integrare una complicazione che deriva dal mondo dei classici infatti i fasi lunari molto spesso lo vediamo in quadranti un po' più tradizionali in orologi molto più classici mentre qui abbiamo un field watch con le fasi lunari quindi Econoitra con questa versione con le fasi lunari è riuscita ad unire perfettamente quella che è una complicazione del mondo dell'orologeria meccanica tradizionale a un orologio moderno in tutto e per tutto per di più in questa configurazione PVD abbiamo un'estremizzazione del concetto di orologio moderno infatti abbiamo un materiale diverso abbiamo un trattamento diverso dell'acciaio e quindi tutto sommato quest'unione è molto particolare molto intrigante è un orologio bello per questo perché è fuori da tutti gli schemi il disco dato utilizzato da Econoitra è diverso ed è appunto creato in esclusiva da Econoitra e abbiamo la visione della luna dai due emisferi quello di nord e quello di sud quindi anche qui i dettagli fanno da padrone anche qui Econoitra secondo me è riuscita molto bene nel creare un prodotto molto molto bello ricco di contenuti tecnici e costruttivi quindi ancora una volta secondo me Econoitra si è superata è riuscita a fare un prodotto molto molto bello entrambi gli orologi vestono molto molto bene come vi dicevo preferisco la versione piccoli secondi perché appunto nel complesso la trovo leggermente più snella sul polso è un po' più versatile e anche più in linea con quello che poi piace a me non è che ci siano tante altre verità il fatto poi che abbiano integrato così bene il datario secondo me è una cosa da non sottovalutare perché in entrambi gli orologi abbiamo il datario che viene integrato benissimo e praticamente non si vede quindi avere un datario ad ore 3 che non rovina la simmetria dell'orologio è anche qui un lavoro molto molto certosino molto interessante che Econoitra è riuscito a fare i prezzi di lancio saranno di rispettivamente per i piccoli secondi di 740 euro mentre per l'automatico con fasi lunari di 840 euro quindi una maggiorazione di 50 euro rispetto alle versioni classiche in acciaio ma portate a casa secondo me è un prodotto completamente fuori dagli schemi le versioni classiche in acciaio sono molto belle però sono orologi un po' più semplici nel complesso mentre qui se volete uscire un po' fuori dal coro volete un field watch diverso dal solito specie il fasi lunari secondo me riuscite ad avere davvero qualcosa di diverso e di particolare spero quindi che questi orologi vi siano piaciuti detto questo ditemi un po' qui sotto cosa ne pensate se avete mai preso in considerazione di acquistare un orologio in PV di nero io vi dirò i pilot watch, i field watch sono l'unica categoria che realmente apprezzo in questa colorazione e questo solo tempo meccanico manuale con i piccoli secondi ad ore 6 mi ha colpito particolarmente quindi può essere che ci faccio un piccolo pensierino perché è un orologio veramente fuori dal coro non ho nulla in collezione di questo genere e quindi sono incuriosito sono molto incuriosito da questo orologio vediamo un po' se entrerà in collezione oppure no e voi ditemi qui sotto la vostra cosa ne pensate perché lo sapete per me è importantissimo confrontarmi con voi perché faccio i video sostanzialmente per quello quindi fatemi sapere qui sotto la vostra perché è importantissimo il vostro commento e quindi voglio sapere un po' cosa ne pensate come sempre se questo video vi è piaciuto lasciate un mi piace commentate, condividete, iscrivetevi al canale se ancora non l'avete fatto e noi ci vediamo ad un prossimo video ringrazio ancora Econoitra per avermi mandato questi orologi e noi ci vediamo al prossimo video